La Regione taglia i fondi del risanamento destinati a Messina. I 10.900.000 euro recuperati dall'ex assessore regionale Nino Bartolotta e destinati dall'amministrazione comunale all'acquisto di alloggi già realizzati e dalla riqualificazione del complesso Casa Nostra sono diventati 7.400.000 euro. Una decurtazione consistente che penalizza Messina e che arrivata all'improvviso costringe l'amministrazione comunale a rivedere i propri piani. L'assessore a risanamento di Palazzo Zanca Sergio De Cola ha confermato che da Palermo è arrivata la richiesta di ridefinire la scaletta delle priorità che adesso può contare dunque su 3 milioni e mezzo in meno di finanziamenti. Il sindaco Renato Accorinti in queste ore sta cercando il dialogo con il presidente della Regione Rosario Crocetta. Messina infatti rischia di essere penalizzata ancora una volta. Conti da rifare, necessità da rivalutare. Da Palazzo Zanca annunciata battaglia per riottenere integralmente quanto sembrava già in cassa e che è stato invece ridotto con l'arrivo del nuovo assessore dei lavori pubblici Mario Torrisi.